La parola al professore Gaetano Insoli. Grazie al professor Fiandaca e al professor Visconti per l'invito a questo importante e interessante incontro. Vado subito al merito. Già il titolo del convegno suggerisce con chiarezza l'idea che è quella di una pacata riflessione sul sistema di repressione e prevenzione apprestato per contrastare la criminalità mafiosa e quella ad essa assimilata, quella organizzata. Il titolo suggerisce anche una proiezione verso il futuro nel momento in cui si vogliono individuare nuovi contenuti. Ecco, io articolerei il mio discorso in cinque spunti per il dibattito. Una prima parte, una seconda parte molto sintetica, ovviamente dedicata ai temi individuati dal professor Fiandaca e forse anche a qualche altro tema. Primo punto, dopo la legge Rognoni della Torre, vi è stato un fluire ininterrotto di interventi normativi volti a potenziare l'apparato repressivo e preventivo. Secondo punto, secondo spunto, come è noto la scelta di fondo che ha caratterizzato la strategia politico-criminale di contrasto, si è basata sul cosiddetto doppio binario. Con ciò, cosa intendiamo? La differenziazione rispetto a quelli ordinari degli strumenti di diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario. E questa è la logica che ha connotato quella che viene individuata come legislazione dell'emergenza, giustificata dalla indiscutibile virulenza delle manifestazioni della criminalità mafiosa. La soluzione del doppio binario, guidata prevalentemente da strategie derogatorie nel processo e in fase esecutiva, ha uno stretto legame con il tempo. Ecco, lo stile della relazione con il tempo non può essere quella della stabilità rituale del modello codicistico classico, su questo siamo tutti d'accordo. Ma dovrebbe comunque non rinunciare all'idea di termini da commisurare agli indicatori fattuali delle emergenze e delle virulente emergenze. E' forse un paradigma ragionevole, troppo ragionevole o teorico, al quale peraltro non ha corrisposto affatto l'evolversi della situazione. E quindi possiamo parlare di un insediamento permanente di un diritto penale differenziato, di lotta, alcuni dicono del nemico, che si basa su alcuni postulati. La riespansione delle garanzie processuali, penitenziarie e nelle loro ricadute sul diritto penale sostanziale, si può dare solo in presenza della dimostrata sconfitta definitiva del nemico. Anche in presenza di indicatori empirici contrastanti rispetto alle stagioni più virulente del fenomeno, non si può abbassare la guardia. E' un'espressione ricorrente. Al contrario ci si troverebbe, nel caso di caduta di indicatori empirici, in una pericolosa fase di quiescenza, riorganizzazione del fenomeno. Ma vi è un altro aspetto su questo secondo punto. Un autore a me caro, purtroppo non più tra noi, uno storico del diritto, esaminando i caratteri originari e quelli permanenti del sistema penale italiano, a proposito della legislazione dell'emergenza, notava come essa non corrisponde affatto ai modelli storici dei provvedimenti di emergenza. Perché questo? Perché il suo profilo non ci conduce a un carattere originario del nostro sistema penale. Infatti per la penalistica classica quei provvedimenti valevano, servivano a conservare indenne il nucleo del diritto penale del codice. L'esperienza recente dell'emergenza, recente da un punto di vista storico, quella che esaminiamo, ha invece condotto ad una sua emarginazione, parlo del diritto del codice, e ad una espansione delle logiche dell'eccezione. Terzo spunto. La espansione irresistibile del doppio binario a settori sempre più vasti di criminalità ha come vettori alcune norme processuali che fungono da veri e propri polmoni della sua stabilizzazione nel sistema. Penso all'articolo 51,3 bis, all'articolo 407 e, in virtù di recenti modifiche, all'articolo 275 del codice di procedura penale. Con una eterogenesi di fini che è stata recentemente, per fortuna, stigmatizzata dalla Corte Costituzionale a proposito della presunzione dell'adeguatezza della sola misura carceraria, la sentenza 57 del 2013. Se poi esaminiamo il sistema di giustizia penale nelle sue strutture istituzionali e organizzative, il doppio binario si coglie anche nel parallelo operare, a fianco del percorso ordinario degli uffici di procura, delle carriere che si svolgono all'interno della DDA e della DNA. Nelle decisioni concernenti gli uffici direttivi esse potranno avere un peso, comunque sempre gestito dal contesto degli equilibri di corrente. Ulteriore discorso poi riguarda gli incarichi e le carriere extragiudiziarie, con alcuni esempi recenti anche molto evidenti. Quindi un doppio binario anche... Quarto punto. L'esperienza legislativa più recente ha visto affermarsi, accanto alla tradizionale nozione di ordine pubblico, il concetto di sicurezza. E di qui i pacchetti sicurezza, che scandiscono ormai l'iniziativa politica, secondo alcuni implicando una metamorfosi dello Stato, da Stato di diritto, di Stato di prevenzione. Bene, alle più disparate domande di sicurezza, le agenzie politiche rispondono sempre con soluzioni penalistiche, vi è proprio una cronologia impressionante. In questo contesto i nuovi interventi in tema di mafia e criminalità organizzata costituiscono da anni una sorta di coro che accompagna leggi, a volte dai contenuti e finalità disparati. E questo ha fatto pensare che ormai da anni questa convulsa legislazione penale costituiscono operazioni di marketing politico. Gli interventi in nome della lotta alla criminalità mafiosa costituiscono l'involucro che consente di smerciare al meglio prodotti eterogenei, guasti o contraffatti. Questa confezione è stata usata per la cosiddetta ex cirielli e per i due pacchetti di sicurezza 2008 e 2009. Il nastrino colorato del pacchetto è sempre costituito dalla reiterazione degli aumenti di pena, in particolare per l'articolo 416 bis. Non parlo delle misure di prevenzione, queste cose che ho detto confermano una prevalente funzione mediatica degli interventi, nel senso dell'aumento della pena, di produzione di consenso e di potenzialità espensive di una penalità differenziata. Un campo sul quale l'accordo tra le forze politiche, che sono sempre più in affanno nella ricerca di consenso, può apparire facile e scontato. Quinto punto. Un luogo ricorrente del discorso pubblico sul tema, proveniente da associazioni, dai più disparati opinion maker, da ruffa popolo dell'antipolitica, è costituito dall'affermazione della inadeguatezza della vigente strumentazione repressiva, della sua mollezza, è un motivo ricorrente anche in alcune parti delle elaborazioni delle commissioni istituite in vista di ulteriori interventi legislativi sul tema. È ricco di spunti in questo senso l'elaborato della cosiddetta commissione Garofali, istituito dal precedente capo del governo. Molte, e non posso soffermarmi perché voglio rispettare i tempi che mi sono stati dati, molte le proposte in punto rafforzamento del sistema di repressione penale. Mi soffermo solo su un aspetto che si collega a quanto ho detto prima, che mi ha colpito. La proposta di un ulteriore incremento sanzionatorio, sarebbe il quarto nel giro di una decina d'anni, per il reato previsto all'articolo 416 bis. Ebbene, questa proposta è basata su un affermato difetto punitivo riscontrabile rispetto al delitto associativo in materia di stupefacenti. Ma soprattutto l'argomento è speso, considerando come, quando capi e organizzatori non rispondano dei reati fine, possa accadere che espiata la pena, e dobbiamo aggiungere noi la misura di sicurezza che è prevista e applicata, possano riprendere l'attività criminosa. Bene, io, a proposito di dati, non sono in grado di verificare la fondatezza empirica di questa ipotesi. È evidente, tuttavia, che essa ci deve orientare verso la previsione di pene perpetue, per tipo d'autore. Ma mi occupo adesso un attimo del discorso pubblico sulla inadeguatezza del sistema repressivo e mi soffermo su un altro aspetto. Quello dei dati a supporto della permanente emergenza mafiosa. E qui c'entra proprio con la convenzione che, la stipula della convenzione che ha dato spunto a questo incontro. Mi riferisco, anzitutto, ai dati di natura economica. Si individua, in termini percentuali, l'incidenza sul PIL dell'operato della criminalità mafiosa, il fattore di differenziazione dello sviluppo tra Nord e Sud Italia e tra alcune regioni, eccetera, eccetera. Temi ripresi nella relazione della Commissione che ho richiamato. Ma sono temi, questi dei dati, dei dati economici, che accompagnano continuamente la narrativa di mafia in punto inadeguatezza del sistema. Ecco, io penso che quelli pertinenti lusinghieri alla entità delle confische di prevenzione di quelle allargate in base all'articolo 12.6 e se del decreto legge costituiscono un dato preciso e rilevante nella direzione di una effettività di quegli strumenti, senza esprimere giudizi sul loro funzionamento, però. Non altrettanto può dirsi, vi va di a proposito, dei criteri adottati nella formulazione di proiezioni a supporto della permanente necessità di alzare la guardia. E a proposito dei dati, e qui mi riallaccio alle cose dette da Fasullo prima, voglio sottolineare come sia costantemente rimosso il dato corrispondente ad un assai convincente modello criminologico basato sui rapporti tra situazione economica, incarcerazioni, omicidi, omicidi e allarme sociali. È un modello criminologico molto accreditato. Un aumento del tasso di omicidi in un dato periodo, oltre ad essere causa di allarme sociali in sé, viene comunque iscritto all'interno di una cornice, di un frame, che ne dà in qualche modo ragione, costruendo una situazione di emergenza, una causa di allarme sociale, al quale le autorità politiche e giudiziarie non possono fare a meno di rispondere se non con un intensificarsi della repressione penale. Perché è un modello oggettivo. Bene. Nel 2012 in Italia si sono registrate 526 omicidi dolosi. Il numero più basso dall'unità d'Italia. Dall'80 il numero degli omicidi è sceso del 67,8%. L'indice è di un omicidio ogni 100.000 abitanti. Quello medioeuropeo è quasi il doppio, 1,9. Di questi 526 omicidi, 159 vedono come vittima le donne e 175 si consumano tra le mura domestiche. Gli omicidi ascrivibili alla criminalità mafiosa, intendendo le quattro tipologie dell'Italia meridionale, sono 84. E questi sono dati del rapporto 2013-EURO-ANSA. Sulla base delle stime dei primi otto mesi del 2013, quell'anno dovrebbe chiudersi con un'ulteriore diminuzione, 480 da 526. In definitiva, se usiamo questo dato, che non viene mai evocato, devo dire, nei documenti pubblici a cui ho fatto riferimento, la mafia non può certamente dirsi sconfitta definitivamente in senso bellico, ma non ha neppure vinto. La seconda parte, e il mio ultimo quarto d'ora lo dichiaro a questo, su quali temi si concentra l'attenzione delle prospettive di intervento sul sistema penale. Vicenda speciale è quella che riguarda l'articolo 416-TER, e cioè lo scambio politico mafioso. È una storia nota, la norma viene inserita nel codice del 92 e si connota immediatamente per una formulazione particolarmente infelice che dà luogo ancora a conflitti giurisprudenziali sul momento consumativo, sulla necessità dell'esplicitazione della forza di intimidazione mafiosa nel reperimento dei voti, eccetera, eccetera. Dall'altra, per una adozione di una formula restrittiva quanto inequivocabile per quel che concerne l'oggetto dello scambio politico mafioso. danaro, erogazione di danaro contro procacciamento mafioso di consenso. In particolare sappiamo che la critica verso l'esclusione di altra utilità evidenziava la diversa formulazione della corruzione elettorale comune, articolo 96 del decreto legislativo. e quindi fin dalla sua entrata in vigore la norma fu accusata da molti per la scarsa capacità di colpire in essi tra classe politica e consorterie. Polemiche, per esempio, che si riaccesero in occasione della legge sull'indulto che non eccettuava l'incriminazione dal beneficio. ecco, peraltro la giurisprudenza che si formò procedette ad una esplicita applicazione analogica in malammaro in parte della fattispecie. perché dico che era esplicita? Perché cito una delle sentenze la prima probabilmente che allarga anche alle altre utilità perché viene proprio esplicitato il professor Fianacca è maestro sul tema della interpretazione dei confini tra analogia e interpretazione estensiva e viene esplicitata la natura analogica dell'operazione perché è una sentenza del 2011 quella che ho sotto gli occhi da un lato si richiama la razza storica e politica criminale della nuova fattispecie e si dà rilievo al dato dei criteri interpretativi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dall'altra parte però quasi candidamente la Corte di Cassazione ci dice se però non ricomprendiamo anche altre utilità si avrebbe una sostanziale sterilizzazione del progetto quale si realizzerebbe dove si dovesse ritenere che la condotta punibile resti integrata solo in presenza della Dazio di una somma di moneta questo è lo schema cioè dalle motivazioni di un'interpretazione analogica peraltro altra giurisprudenza della Cassazione diciamo meno ingenua e forse riconducibile a un'interpretazione estensiva quella che dice che comunque deve trattarsi di altre utilità riconducibili immediatamente a una quantificazione monetaria gioielli quadri titoli valori immobiliari bene il dibattito parlamentare sul tema è stato percorso da una in termini un po' forte isteria emergenziale in vista di imminenti consultazioni elettorali come se quella modifica per come soprattutto costruita al Senato fosse in grado di paralizzare in vista delle elezioni europee di maggio le intese e questo la dice lunga rispetto a cose dette dal professore circa i tanti troppi attori che si contendono il pancoscenico ecco qui taglio il discorso perché le ultime notizie sono nel senso che si è tornato indietro certamente quel qualunque altra utilità voleva essere un'ulteriore valvola di e soprattutto la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione un'indeterminatezza che forse in modo un po' tuso certi settori della classe politica non hanno colto come pericolosissimo in un terreno molto scivoloso pericolosissima incertezza in quella che è l'attività della politica altro tema centrale è quello dell'antiriciclaggio due commissioni una nominata dal presidente eletta e l'altro dal ministro cancelliere altra commissione quella presieduta dal dottor greco tre commissioni precedenti però diciamo nel tempi recenti la necessità di eliminare la clausola di riserva prevista dalle attuali disposizioni in tema di riciclaggio e impiego e viene prospettata in base a indicazioni sovranazionali a rilievi comparatistici e richiamando i soliti dati economici rispetto ai quali ho manifestato qualche dubbio critico non qualche dubbio critico ma qualche volontà di meglio conoscerne la elaborazione in tutte queste sedi si è dato atto delle problematiche molto complesse che implicherebbe la modifica e che sfuggono alle discussioni politiche correnti animate da una eterogenea corte di spesso molto superficiali opinionisti quali sono le perplessità ingiustificati e sproporzionati a gravi sanzionatori contrasto con il principio di civiltà nemo teneto sede tegere nessuno è tenuto ad autoaccusarsi e con quello del nebissinidem cioè la duplicazione per intendersi chiave processuale in chiave sostanziale con significati diversi ecco l'intervento io ritengo imporrebbe comunque di individuare con precisione e determinatezza l'area di punibilità coperta dal reato presupposto che normalmente è animato da fini di profitto e dall'altra parte la condotta di autoriciclaggio sul tema direi in modo molto sintetico si coglie un predominante indirizzo una predominante posizione della letteratura penalistica che sottolinea la natura problematica e difficoltosa della scelta l'ha espresso molto bene Fian D'Aca laddove si proceda solo alla eliminazione della clausola di riserva senza ritagliare un margine di non punibilità per condotte consistenti nel mero godimento dei beni e nell'utilizzo del denaro provento del reato con finalità non speculative non economiche e non finanziarie di intervento diciamo nel mercato è una posizione prudente e ragionata che contrasta con la tambureggiante richiesta di interventi tranchante è una posizione meditata che non sottovaluta la già vigliente disciplina degli articoli 12 quinquies e sexies del decreto legge 306 e la necessità di una riformulazione sistematica del tutto ma vorrei aggiungere una considerazione che mi sembra accennata nella relazione della commissione greco l'incriminazione dell'autoriciclaggio nella misura in cui induce l'autore del reato presupposto ad astenersi dal compiere operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del suo delitto che lo esporrebbe a rischio di essere scoperto si porrebbe forse in contrasto con il nemotenetur se detegere dice la relazione greco ma a ben vedere la questione può porsi anche in altri termini quelli per cui la ricchezza illecita resterebbe confinata a circuiti di impiego illegali continuando ad alimentarli e compromettendo soprattutto le potenzialità probitorie della sua immersione nelle indagini sui reati presupposti la considerazione mi sembra che calzi ad esempio in tema di evasione fiscale che si vuole superando tradizionali perplessità ricondurre nell'orbita del riciclaggio perché dico questo perché mi sembra in contrasto con le prospettive offerte da sempre più penetranti strumenti di controllo amministrativo della ricchezza penso agli accessi alle banche ormai e alla comunicazione delle banche ricometro redditometro studi di settore mi sembra che questa realtà non sia coerente basandosi questa realtà amministrativa proprio sul valore indiziante dell'emergere di disponibilità di consumi di stili di vita fiscalmente incoerenti ma questa è una prospettiva che volevo portare al dibattito nella relazione fiandaca della commissione fiandaca si dà conto anche come l'analisi comparadistica dimostri che le cose non stanno proprio nel senso del tabureggiante coro che l'autoriciclaggio sia punito nella maggior parte degli ordinamenti evoluti il panorama è molto complesso e implica più di un distinguo cominciando da quello concernente la previsione di specifiche fattispecie la modalità di tipizzazione ovvero solo evoluzioni giurisprudenziali in questa direzione però è un'indicazione importante e mi sembra offerto dal sviluppo del tema in un contesto che non è certo di un paese non evoluto e mi riferisco al contesto tedesco il paragrafo 261 del codice penale tedesco non contiene una clausola di riserva ma al nono comma vieta la doppia punibilità per il reato presupposto e per il riciclaggio del danaro da esso proveniente importante questo è in conformità con il divieto di doppia punizione sancito nel contesto tedesco a livello costituzionale l'articolo 103 comma terzo questo principio questo divieto della doppia punibilità in tema è stato confermato dalla Cassazione federale nel 2009 uno potrebbe obiettare che analogo di vieto non è previsto dalla nostra costituzione ma c'è un problema dottore esso è sancito dal settimo protocollo della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo molto chiaramente all'articolo 4 diritto di non essere giudicato e punito due volte e qui vediamo una novità molto interessante è una recente sentenza della Corte di Strasburgo 4 marzo 2014 nella causa Grande Stevens contro Italia e la sentenza si riferisce ovviamente non ne riporto in dettagli i contenuti però a me pare che si riferisca proprio e con danni l'Italia alla duplicazione oltre che del procedimento dell'impatto sanzionatorio il problema è sanzioni consob e sanzione processo penale ne deriva sono parole della Corte Edu che le nuove azioni giudiziarie concernono una seconda infrazione che ha per origine fatti identici a quelli che erano stati oggetto della prima condanna e quindi con particolare riferimento a quelle situazioni nelle quali si tratti di condotte consistenti nel mero godimento dei beni o nell'utilizzo del denaro proveniente del reato con finalità non speculative economiche o finanziarie la questione si pone rispetto alla nozione di stesso fatto e quindi sul versante del cosiddetto nebissinidem sostanziale e su quello connesso di proporzionalità della risposta sanzionatoria due minuti e ho finito in conclusione mi sembra forse che la seconda ipotesi formulata dalla commissione greca allora che formulava due ipotesi di soluzione e la proposta di minoranza sul terzo comma dell'articolo 648 bis della commissione fiandaca previsione di una causa di non pubblicità si facciano solo in parte devo dire carico di questi problemi ecco aggiungo che mi sembra invece che imprima una spinta espansiva incontrollabile all'incriminazione dell'autoriciclaggio l'adozione di formule di chiusura quale compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro prevenienza delittuosa formula che rispetto al riciclaggio poteva trovare una qualche giustificazione una qualche modalità interpretativa sul concetto nel caso dell'autorità di ciclaggio certamente porrebbe questioni circa il concetto per esempio di ostacolare materialmente giuridicamente due battute ancora sul concorso eventuale a poca distanza la sentenza Mannino coglievo avvisagli giurisprudenziali della sterilizzazione della portata garantistica di una decisione che aveva provato a ricostruire correttamente in base all'articolo 110 la possibilità di tipicizzare il contributo polibile queste avvisaglie rivelavano anche la fragilità di alcune fragilità dei criteri adottati in quella sentenza in punto causalità ebbene successivamente con quello stucchevole balletto dell'ossecchio formale alle sezioni unite al quale corrisponde però in funzione di una specifica sottofattispecie una soluzione in realtà difforme dissenziente ecco è avvenuto questo una conferma di quei timori che io espressi subito ma non solo anche il professor Fiandaca può agitrarsi dall'indirizzo che ipotizza la configurazione permanente del concorso esterno e in questo modo si gettano ulteriori elementi di confusione di incertezza nel tormentatissimo percorso di questa figura e non sto a dire quali perché ma devo dire che si tratta di una tra virgolette dogmatica giurisprudenziale accorpabile ad altre topiche interpretative che sono fondamentalmente volte a scongiurare l'intervento della prescrizione soprattutto dopo la riforma del 2005 il diritto positivo viene ritenuto inadeguato a corrispondere ad esigenze di effettività punitiva ecco l'elaborazione sempre più fantasiosa dei reati dell'allargamento del novelo dei reati permanenti reati a consumazione prolungata eccetera eccetera ecco io penso che ripensare all'antimafia vuol dire anche tornare su questo tema e ripensare anche all'aggravante dell'articolo 7 della legge 203 del 91 ecco torno un attimo sull'articolo 416 ter perché in una recente decisione recentissima della Cassazione si è stabilito che la fattispecie circostanziale è assorbita nell'incriminazione la circostanza dell'articolo 7 è assorbita nell'incriminazione del 416 ter con il risultato era evidente nella decisione in questione ancora una volta funzionale ad escludere la prescrizione perché in questo modo si ricomprendeva anche il 416 ter nel catalogo dell'articolo 51 3 bis del codice procedura penale che non lo menziona affatto bene la tesi di rassorbimento confligge con elementari canoni interpretativi riguardanti il rapporto tra condotta e descritta nella fattispecie incriminatrice e qualificazione circostanziale perché a quella stregua la condotta descritta dall'articolo 416 ter come sappiamo consiste nell'ottenimento della promessa da parte del politico e in ciò si esprime l'autonomia strutturale del 416 ter rispetto alla norma precedente e allora dovrebbe risultare evidente a tutti come il proposto assorbimento dell'aggravante dovrebbe implicare che il requisito dell'avvalersi della forza di intimidazione assista la condotta del politico candidato rivolto al soggetto riconduce no ma lo scrive la Cassazione sesta sezione 21 febbraio 2014 perché altrimenti il reato sarebbe stato prescritto così non va bene quindi il candidato si avvale della forza di intimidazione per convincere il mafioso dietro pagamento a procacciare gli voti non si può andare avanti così questo vuol dire ripensare l'antimafia dicevo ripensare l'aggravante ma soprattutto il groviglio determinato dall'intreccio sedimentato in un trentennio di legislazioni interrotte dell'emergenza tra norme processuali ed effetti sostanziali imprevedibili e questa è una dimostrazione nelle letture giurisprudenziali spiegate ad esigenze punitive del caso concreto quindi questa materia che è un passimo grazie ma l'intervento di Gaetano in solera che si è mantenuto sostanzialmente nei limiti di tempo è stato in realtà di ampio respiro che a parte i cinque punti di riflessione di portata generale che ha sottoposto alla nostra attenzione ha toccato diversi punti caldi anche in relazione alle principali fattispecie ai principali istituti che sono fatto oggetto di applicazione anche nella prassi giudiziaria gli invito a riflettere e quindi a tentare di mettere maggiore ordine in certi inestricabili grovigli normativi in cui finisce con l'avvitarsi la stessa corte di Cassazione verosimilmente anche allo scopo di aggirare prescrizioni direi che è un invito che dovremmo che dovremmo accogliere perché si potenzia anche diciamo mettendo maggiore ordine non aumenta potenzialmente soltanto il livello delle garanzie però può anche aumentare l'efficacia repressiva nel senso che quando gli strumenti sono più chiari nella loro applicazione e più definiti ne può risultare anche l'evitamento dell'accavallarsi di pasticci è un'accavallarsi